Ciao, sono Aiko Fetturella. Sono venuta in Giappone perché mamma e papà devono lavorare. Papà scava e mamma va sempre in giro a lavorare. I kofun sono delle celamiche che le hanno trovate, per quello che si mette a piovere così possono venire un po' più presto. Ma adesso papà non va al kofun perché deve andare a quell'altro laboratorio dove siamo andati con Naoko che mi ha regalato i giochi e quindi siamo venuti in Giappone per fare questo. E poi noi adesso siamo venuti qui e poi ho fatto una strana faccia e poi non so che devo dire più.